Abbiamo chiesto un appuntamento con il prefetto e domani alle 9 e mezza una delegazione di residenti e commercianti di Padova verrà ovviamente ricevuta. Noi esprimeremo tutte le nostre perplessità, tutti i nostri timori e chiederemo appunto che la Prandina venga liberata. Commercianti e residenti del centro di Padova saranno domani dal prefetto per dire no alla tendopoli dei profughi, alla Prandina. Non ci stanno ad avere gli immigrati che girano indisturbati per le strade. Via Savonarola, Corso Milano sono sul piede di guerra. Camminano, sono liberi, tranquilli, vanno alla Nokia, vanno alla Vodafone, come fosse la casa loro. Proprio per motivi anche di lustro del nostro centro. Li incontriamo, ci guardano un po' con sospetto, con meraviglia di ciò che portiamo addosso, per cui si ha anche un po' timore. La gente passeggia ma non si sente sicura, c'è chi ci racconta anche di episodi scabrosi. Poi c'è un problema comunque di sporcizia, perché purtroppo non si può dire magari in televisione, ma c'è stato un fatto increscioso, anche qua che è tipo che la gente fa i fatti suoi fisici. Si vive, punto e basta, certo è una situazione anomala, anomala, anomala. Però stamattina li ho visti un po' a bivaccare lì nell'angolo, cos'è vicino alla rotonda. Ecco, è la prima mattina che li ho visti, però insomma finché stanno tranquilli è tutto a posto. È caldo, la gente è in vacanza e quindi non si vede granché, però tutti quanti si stanno preoccupando un attimo un po'. Tutti considerano sbagliata la scelta di utilizzare l'ex caserma Prandina, un'area troppo centrale, indecoroso, dicono per una città come Padova. Certo che la scelta di utilizzare un sito posizionato dentro il mura storico per fare un luogo dove poter portare gli immigrati non sia stato al massimo della scelta. Al prefetto chiederanno lo sgombero della struttura e se la risposta non sarà positiva passeranno dalle parole ai fatti. E la prima manifestazione di protesta potrebbe essere già martedì prossimo. Questo è un problema che deve essere risolto e quindi noi siamo pronti veramente a fare le barricate perché è una situazione intollerabile.